Una lite con il vicepresidente del Consiglio regionale Pettinari, cosa è successo esattamente e perché lei ha risposto così? Non voglio parlare di questa cosa, gli ho già concesso un quarto d'ora di celebrità, se lo può godere tranquillamente. Così il presidente della regione Marco Marsilio all'indomani di un consiglio animato. Una lite scoppiata nel pomeriggio di ieri tra il governatore dell'Abruzzo e il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari che aveva stigmatizzato le ripetute assenze dall'aula di Marsilio. Una consuetudine che questa volta avrebbe causato la mancanza del numero legale in aula e che ha costretto il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri a ritardare la ripresa dei lavori. Inaspettata la reazione di Marsilio che ha chiamato il consigliere del Movimento 5 Stelle Pagliaccio. Mi sono sentito molto offeso perché sono parole offensive nei miei confronti. Tutti i video che hanno fatto i colleghi tra l'altro che hanno ripreso queste cose e testimoniano quello che è successo. Io stavo semplicemente richiamando alla presenza in aula i presidenti di regione perché il consiglio era iniziato alle 11 e alle 3 per mancanza di numero legale si è dovuto sospendere il consiglio. Poi abbiamo dovuto aspettare che arrivasse il presidente di regione. Quando è arrivato il presidente di regione io ho detto che non andava bene così, che la maggioranza spesso va sotto, non ha i numeri, e quindi bisognava stare presenti in aula soprattutto a coloro che hanno responsabilità di governo. Per tutte le risposte sono stato apostrofato Pagliaccio, Pagliaccio, ripetutamente. Più volte mi ha detto Pagliaccio. E questo è gravissimo a mio avviso. Io ho chiesto delle scuse, non sono arrivate. Il presidente del consiglio, addirittura dicendo che io avrei provocato, ma non so che tipo di provocazioni avrei fatto, mi chiede scusa per conto del presidente della regione. Ma perché il presidente della regione ha bisogno di un difensore ed ufficio o si chiede uno scuse per interposta persone? Io voglio le scuse del presidente della regione perché sono stato profondamente offeso nel mio ruolo istituzionale di consigliere vicepresidente del consiglio, ma anche nella mia onorabilità, nella mia persona. Perché Pagliaccio è stato detto a Pettinari, Domenico Pettinari.